Abbiamo lanciato una nuova iniziativa, quella dell'Agrit Point, che è la valorizzazione del prodotto agricolo italiano, quindi vini, pasta e quant'altro viene prodotto in Italia, solamente prodotto al 100% italiano. Quindi noi vogliamo essere di supporto a tutte quelle aziende che hanno dedicato la loro mission per sviluppare e promuovere il prodotto italiano e attraverso il Centro Sportivo Fiamma Sport nazionale vogliamo divulgarlo a tutte le nostre società e possibilmente anche alla comunità alla quale noi apparteniamo.